Secondo il Consetto bollettino diramato dall'Unità di Crisi, regionali sono 869 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 26.309 test. Si registrano anche 16 essi, 5 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore ed uno in precedenza, ma registrato ieri. Risale l'indice di contagio dal 3,26 al 3,30%. Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento social del venerdì, ha annunciato, siamo pienamente entrati nella quarta ondata, un'escalation di casi che preoccupa De Luca, che adesso teme ospedali nuovamente ingolfati. Per questo, martedì con i direttori generali delle aziende sanitarie del territorio, avvierà una campagna massiccia di somministrazione delle terze dosi del vaccino, in particolare per quanto riguarda il personale scolastico. Ma anche per prevedere una riapertura di alcuni reparti ospedalieri smantellati dopo il crollo dei contagi iniziato a partire dalla scorsa primavera. Cominciamo ad avere il problema che era prevedibile. Più aumentano i ricoveri covid, più diminuiscono altre prestazioni, evidenzia De Luca che punta il dito contro le proteste dei Novaks che avrebbero causato i nuovi casi.